You should save me some Good luck! Facem la strage Facem la strage Tutto chi si strizzam come la valderia Io non prometto niente Però ieri sera è funzionato Mastro Tu mi devi garantire la vittoria Al 200% Vai! Pronti! Tattica, vai! Allora, allora, allora Forza Passiamo dal centro Tutti Tutti Ok Andiamo proprio addosso Tutti dal centro Cazzuti proprio Cazzuti Anzi, magari Io e Reddy Satar Scendiamo da giù Da qua Felice, seguimi a me, va? Da qua dove? Dove sono io? A destra A destra Lascia sfilare il kiwi giù Se no Ero il kiwi giù Ero il kiwi giù Ero il kiwi giù Ero il kiwi giù esatto, sei cattivi vedi a voi si si ma non ti preoccupare guarda che ci stiamo arrivando ah fate i cattivi eh, si si aspetta che vengo su allora raga vi saluto a domani a domani ciao ciao buonasera a tutti ciao ciao caro massimo che possono ammazzare dai le grilli no che pure stiamo senza sta lì che mi dici eh sono in battaglia vabbè 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 forza ma è felice andiamo a quella di nulla guarda che sono in due Mastro si facciamo prima il primo uno si è buttato di sotto l'altro pure il KV2 è sparato eh si ma è felice fatelo bravo bravo andiamo al KV2 che è sparato non lo vedo più è dietro alla roccia eeeh cazzo ma ho asciutato vabbè dai fate i restanti fanno due piano piano perché c'è anche gusto ah questo che mi ha sparato adesso lo faccio saltare a che la serbaccina scappi se no che gusto c'è eh sì ho chiamato che c'è cosa là dietro eh si lo pizzo e se lo vale la pena il type 64 tu pizza è merda scappa scappa lepre ti faccio diventare un coniglia vittorio vai dall'altra parte segui il type 64 e sta facendo il giro e lì sono le costole scendi e va di là dov'è? eh dietro sono andato in caffè ci sei ci sei ci sei ci siamo ci siamo ci siamo l'animalo l'animalo sta intanto ci sei va bene ok e allora lo dobbiamo sterminare guarda ci possiamo la voce del capocollo gli dobbiamo togliere la foglia di sutere dov'è quel corno incazzo incazzo è da no incazzo è scappato ah è dietro la montagna si ma diamoci una corsa però vai 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 bra grandi grandi bello moraccona ci abbiamo rotto l'abbiamo spianato abbiamo spianato la strada molto bene cioè ragazzi il kv2 tre tiri 1485 ho portato a casa 22 mila crediti ottimo sì sì cool vediamo un po' io non ho manco guardato quel camp invito al distaccamento da san marco bcd cancellate 31 mila 313 vai vai io ancora una manciata di denari arriva a 5 milioni su guarda io ho ancora 700 800 partite e sto a posto vai che mi devo comprare gli S4 su quanto costa? eh 6 milioni 100 sti cazzi no ma non è tanto quello è tanto il fatto delle stelline che ci vogliono è quella la problematica perché io adesso con il 9 non sto più facendo niente ma vorrei andare avanti per poter tentare poi di arrivare ad avvicinami a un 10 allora che fai rimani senza un 10 assolutamente no non ce n'ho ancora eh giochiamo in difesa questa ok campaniamo papà felice e il 2kf2 qua dietro ok poi i restanti si piazzano in città qui davanti dopo il punto è il 2kf2 ci deve andare non avevo un po un presente veloce vado io dai eh ma è il vero mi raccomando con il kv2 eccolo è sfasciata da quella bravissima una botta, sono sfianato carissimo carissimo stavo giusto dicendo sparate per uccidere ma avete letto nel pensiero eh neanche il tempo di dire chi l'ha esattamente esatto carissimo i miei occhi vedono un t84-85 alla deriva vai sfasciate da quella bravissima adesso ci pensiamo noi e hanno lanciato alcuni video su sabermann ma io non ho fatto niente oh buono non ho fatto niente poi c'è un quad con il nano che facciamo? andiamo a muovere il loro cap? ehm no no per ora no guardate su quella montagnetta lì ma stanno arrivando da qua ok quando spara il kv trena il terreno uno dell'ora si può raccontare ottimo c'è il m4 dall'altra parte? ehm sì sì ma che cazzo non evuco nessun dei due tutti e tre di là sono manca il leggero user joined your channel oh si eccoci mi serve ancora un posto mi serve ancora un carro per me lo fate fuori il vk si grazie eccolo il leggero guardalo dov'è il d9 oh non ho sparato un colpo no che testa di cazzo che so tienili al caldo me me sono ucciso con l'artiglio io su no e dove andrà questo piccolino e questa qua sai che stai cercando di tagliare in diagonale in modo che rettringiamo il tiro passi dal ponte passi dal ponte no no che battiamo no no che stai andando in cazzo e che loro tenteranno sicuramente di svinarsela no 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 non battiamo un accidente di niente questo ha da morire chiudete i ponti e fruggetelo qui è qua dritto a me mi sta sparando dove? qui dritto dove punto io verso g9 d9 allora io gli sto richiudendo la strada in modo che non può scappare adesso sta dentro nostro cerchio mi sta sparando lo stronzo dove sta? eccolo 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 è in cap è nel cap suo è nel suo cap eccolo ho visto chiudetelo vieni patatina vieni vieni che ti spiano un pochettino vieni vieni qualcuno vada a cappare intanto eh perchè la riserva del caro sicuramente lo stronzo eh noi siamo troppo lenti però eh stai andando verso il castello stai andando verso il castello stai andando verso il castello eh fallo andare vabbè due che stiano in cap così per lo meno eccolo 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 tiraci una stecca vai eh eh quello che voleva vedi è venuto è venuto è venuto è venuto finalmente aspetta che ti sparo un attimino un colpo hai fatto bene tanto bene bravo lo stai accanto al primo colpo proprio spia non dico che sono morto se vedi mi sono tirata l'artiglieria mia al dos efficiente l'ho tirata come una calamita altri 17.000 a casa bravo bravo perché mi aveva invitato prima